Sono Nicolò Schifano, sono un urologo, lavoro all'ospedale di Varese, giornata di impianti protesici penieni oggi ad Agrigento, sono stati fatti tutti con un approccio infrapubico, un approccio che sicuramente presenta dei vantaggi fondamentali, per esempio il ridottissimo tempo operatorio che permette sicuramente una riduzione delle complicanze e un aspetto cosmetico del bene al termine dell'intervento che sicuramente è ottimale rispetto al classico approccio penosclotale.